Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Da ormai oltre due anni, il caso di Liliana Resinovic rimane avvolto nel mistero, con più domande che risposte riguardo la sua tragica scomparsa. Una recente puntata del programma E quarto grado, noto per affrontare casi irrisolti, ha offerto una nuova prospettiva grazie alla presenza inaspettata di Claudio Sterpin. Sterpin, sostituendo l'abituale ospite Sebastiano Vicentin, ha portato con sé una serie di documenti che prometteva di gettare nuova luce sugli eventi. La discussione si è focalizzata sugli alibi di Sebastiano, il marito, e di Claudio, l'amante di Liliana. Sebastiano ha fornito un alibi che lo vedeva nel suo magazzino di coltelli, senza possibilità di essere raggiunto al telefono, per tre ore il giorno della scomparsa di Liliana. Questo alibi era supportato da un video registrato con una GoPro che mostrava Sebastiano in bicicletta in quel lasso di tempo. Nel corso della trasmissione, Sterpina ha condiviso le sue teorie su cosa potrebbe essere realmente accaduto nel magazzino in quelle tre ore, suggerendo la possibilità che Sebastiano avesse incontrato Liliana e l'avesse convinta a seguirlo. Le speculazioni sono aumentate quando si è parlato dei segni sul viso di Liliana, suggerendo un possibile confronto fisico tra i due. Claudio, durante la trasmissione, ha espresso forti dubbi sulla sequenza degli eventi, anche se poi ha leggermente attenuato le sue affermazioni, forse rendendosi conto della loro gravità.